e questa è la forcellona che poi deve andare a ad accogliere il piccolo binocolo che vi monteremo fra qualche minuto e che vedrete che bello che è uno spettacolo questo binocolone ha un campo di 2 gradi e mezzo un'apertura da 150 mm e degli oculari da 2 pollici e un binocolo che ha un 6 mm di estrazione pupillare come poi scopriremo 6 mm è un valore molto interessante perché 6 mm significa che noi per sfruttarlo al meglio dovremmo utilizzarlo sotto un cielo sufficientemente buio per permettere alla nostra pupilla di dilatarsi quel tanto che basta da non causare perdita di luce e da intercettare tutto il cono di luce dalla pupilla di uscita e non solo parzialmente come avviene non penso che per esempio in un posto di imparano non 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 Grazie.